Guardate che succede ragazzi al santuario della morte. Stiamo vedendo il folle titano Thanos insieme a questo robot Ultron. Ora vederlo così è in versione normale Ultron. Tu sei solo una macchina, non possiedi un'anima Ultron. Questa città e le sue meraviglie potranno esserlo. La gemma dello spazio vi condurrà al confine della città. Ma la barriera invece... Ultron potrebbe distruggerci adesso. Oh, quello è Sigma. Ragazzi, c'è anche Sigma, avete visto? Quando Ultron e Sigma si incontrano, fanno la loro fusione e diventano Ultron Sigma. Come facevano Shao Kahn e Darkseid per diventare Darkkan. Ora formano un'alleanza Ultron e Sigma. Il fuoco dell'anima va estinto, non so in che modo, con la violenza. Esiste un'altra soluzione. Abel City, laboratorio di Sigma. Ragazzi, siamo nel laboratorio di Sigma. Abel City. No, avete visto che fa Ultron appena prende Sigma? Lo uccide. Che gli sta succedendo a Ultron? Avete visto? È morto Sigma. Il vostro nome è Ultron Sigma. Siete rinati come una cosa sola. Deludente, è vero. Siamo davvero nei guai, ragazzi. Siamo le 1. Lui.